Cuore di Nerazzurri, una buona sera e una buona serata da Roberto Scarpini collegati con lo stadio Meazza per Inter-Ellas-Verona. Tutto è pronto, ci siamo, si inizia, forza ragazzi. Attenzione a Lazovic che viene dentro dalla sinistra, la mette dentro, pericolosa, c'è il contatto e l'arbitro dice che è calcio di rigore per il Verona. Parte il tiro e gol del vantaggio dell'Ellas che al diciannovesimo sblocca il risultato, caloppata di Biraghi, palla al limite per Lautaro, rimpallo, il tiro! Palla che sfiora il palo in diagonale per Brozzo, Lautaro carica al destro, Murato, Brozzo ancora il tiro, traversa, palla che scheggia la traversa. Pro Lautaro fuori per Biraghi, di cui cross teso, arriva Messino! È gol o non è gol? Cosa dice l'arbitro? Guarda il cronometro, dice non è gol! Finisce il primo tempo, può andarla a piazzare, chiama il pallone con un bel cambio lungo lungo per Lazzaro dal lato a destra, parte il cross, centro aria, arriva Messino! È gol, 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 il beccio! Varela cerca di andare, va dentro, carica il destro, e gol, 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 Varela. L'Inter batte l'Ellas per due reti a uno, una vittoria importantissima. L'Inter batte l'Ellas per due reti a uno, una vittoria importantissima.